Condividere i momenti più belli è la passione di tutti e ci fa sentire un po' speciali. Ma non è bello a volte fermarsi un attimo e fotografare qualcosa solo con gli occhi? Però certe cose non si possono non condividere. Il miglior iPhone di sempre, con la migliore rete team di sempre. Vieni nei negozi team.